Ciao a tutti e benvenuti nel mondo del dottor Rekeweg. Sono Silvano Beltramo e in questo breve tutorial vi insegnerò le regole base per l'inchiostrazione. Con l'inchiostrazione completeremo il disegno in bianco e nero, abbellendolo, arricchendolo e rendendolo pronto per la stampa. Sono vari gli strumenti che ci permettono di inchiostrare un disegno. I più diffusi sono il pennello e il pennino, dove si usa l'inchiostro di china, oppure i pennarelli calibrati di varie dimensioni. Ogni strumento, anche quello digitale, darà un risultato finale leggermente diverso. Con il pennello si avrà un tratto più morbido e modulato, adatto per un fumetto con un disegno più pulito, come ad esempio un fumetto umoristico. Con un pennino invece si avrà un tratto più spigoloso e un po' più uniforme, adatto a un fumetto realistico. I pennarelli calibrati invece possono essere adatti a realizzare le geometrie di mezzi meccanici o architettonici. Nell'inchiostrazione, la modulazione della linea serve anche per rendere maggiormente le differenze tra i piani prospettici di un disegno. Gli oggetti o i personaggi in primo piano avranno delle linee più spesse rispetto agli elementi in secondo piano. La linea esterna portante dell'oggetto sarà più spessa delle linee interne. Infine, con l'inchiostrazione si potranno poi realizzare le campiture nere e i tratteggi, che simuleranno le ombre del nostro disegno al tratto. Proviamo ora a inchiostrare un disegno del dottor Rekkeweg. Partiamo da una illustrazione già a matita. Per comodità, possiamo virare il colore del disegno a matita dal grigio all'azzurro, per non confonderci al momento dell'inchiostrazione. Partiamo dalla linea del personaggio, che sarà più spessa delle linee interne e che servirà a dividere le masse e il personaggio dallo sfondo. Iniziamo a realizzare i particolari con delle linee più sottili. Realizziamo i capelli. Bisogna ricordarsi di fare attenzione a non esagerare nel fare linee troppo spesse o troppo sottili. Inchiostriamo le pieghe dei drappeggi del vestito del dottor Rekkeweg. Ecco le linee del volto. Segniamo le masse delle ombre. Riempiamo le campiture di nero. Inseriamo dei tratteggi per rendere con il bianco e nero le ombre sfumate. qualche ultimo ritocco e il disegno è inchiostrato. Bene, per oggi è tutto. Nel prossimo tutorial parleremo di mezzitoni e retini. A presto e buon disegno! Bello! Grazie a tutti.